Marzo, mese del consumatore. Sono oltre 250 le iniziative di mobilitazione civica sui servizi pubblici locali promosse da Cittadinanza Attiva. Anche la sezione di Licata, la cui responsabile, la dottoressa Maria Grazia Cimino, ha aderito all'iniziativa che si è conclusa oggi con la distribuzione gratuita di materiale informativo. Sono state distribuite guide per i giovani cittadini sul servizio idrico integrato, sul servizio di gestione dei rifiuti, sui servizi pubblici locali e sul trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di informare le persone su come partecipare attivamente alla costruzione dei propri diritti e quali strumenti di tutela possono adoperare per farli valere. Sono stati messi a disposizione questionari per una consultazione civica sul servizio idrico integrato. Cittadinanza Attiva rivolge al cittadino dei suggerimenti e dei consigli, quello di attivarsi ed informarsi, di partecipare, di contribuire al cambiamento, diventare parte attiva nell'organizzazione dei servizi pubblici locali, controllare e valutare la qualità del servizio, reclamare se qualcosa non funziona e infine agire e fare rete. Su questo tema si sono svolti anche degli incontri con gli studenti delle terze classi della Scuola Media Inferiore Gaetano De Pasquali, con gli studenti delle quarte classi dell'Istituto Enrico Fermi e dell'Istituto Recapriata. L'iniziativa rientra nell'ambito delle attività previste dal progetto Consumatori in Rete. Diamo forza ai nostri diritti, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico.